I Le Fonti Awards tornano a celebrare l'eccellenza. L'undicesima edizione del presigioso riconoscimento si è tenuta giovedì 23 settembre in una delle location più affascinanti e presigiose di Milano. La cerimonia ha visto salire sul palco a ritirare l'autorevole riconoscimento i studi legali, i professionisti e le imprese che hanno sfidato e vinto la crisi, mantenendo alti livelli di eccellenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto d'autore. Il premio va a Aldo Fittante, studio legale Fittante. Anche loro fanno una bella passerella e mentre li aspettiamo vi raccontiamo la motivazione, cioè per l'ampia preparazione, il dinamismo e l'assistenza alle imprese e professionisti, individuando il miglior approccio strategico verso il raggiungimento dell'obiettivo prescelto, con particolare riferimento nel diritto d'autore Aldo Fittante. Eccolo qui. Buonasera Aldo. Buonasera, benvenuto. E complimenti. Le fotografie, se vedete che vi si avvicina con quello strumento è una stedica, non abbiate paura. No, il nostro Alessio è bravo, non fa nulla. Esatto. Grazie ancora. Grazie e complimenti. Complimenti ad Aldo Fittante. Siamo in compagnia dell'avvocato Aldo Fittante, fondatore dello studio legale Fittante. Buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera. Ecco, questa sera lei ha ottenuto il riconoscimento come avvocato dell'anno nel settore del diritto d'autore. Le chiedo un commento a questa vittoria. Ringrazio subito tutti quelli che hanno partecipato e quindi tutta l'organizzazione per questo prestigioso e importante riconoscimento. Io sono molto felice di questo riconoscimento e un traguardo dopo 30 anni di professione e di attività anche istituzionale e accademica su questo tema è veramente un premio che mi ha grande onore e felicità. Questa è una materia a cui io sono innamorato. Il diritto d'autore è al centro della creatività, del senso artistico, della capacità, della bellezza diciamo italiana e quindi che riusciamo ad esprimere nel migliore dei modi e poi declinata nell'industria. Quindi la cultura prima di tutto e poi le attività produttive. Quindi è una materia che tiene insieme il meglio di quello che noi siamo e siamo riconosciuti nel mondo che poi si declina nel Made in Italy, in questo modo di vivere all'italiana così diciamo invidiato e apprezzato in tutto il mondo e di cui noi dobbiamo essere orgogliosi essendo anche quindi i titolari del 70% del patrimonio artistico mondiale. Quindi siamo un popolo fortunato e mi ritengo molto fortunato poter lavorare su questa materia che, ripeto, mi piace moltissimo di cui apprezzo anche la continua creatività e quindi modifica il cambiamento della materia stessa perché si rivolge, come dire, a un ambito che si modifica ogni giorno e quindi questo senso del fluido di questa materia è anche una parte affascinante. Ecco, come ha sottolineato lei, il vostro studio è particolarmente attivo appunto nell'ambito del diritto d'autore, diritto industriale, tanto che lei in particolare ha fatto parte della commissione governativa incaricata dell'elaborazione del nostro ordinamento del codice della proprietà industriale che è un vero e proprio testo unico e si tratta anche del primo in Europa, se non sbaglio. Le chiedo cosa ci può dire in merito? Oltre naturalmente nell'ambito professionale che mettiamo al centro il cliente, diciamo per assiste, lo ha 360 gradi e dagli tutta l'assistenza sia giudiziale che stragiudiziale che ha necessità. Dal punto di vista istituzionale ha avuto la fortuna di essere nominato dal governo nella commissione che ha elaborato e scritto poi il codice della proprietà industriale. Un'esigenza assoluta perché noi eravamo in una situazione caotica dal punto di vista normativo dove si erano apposte per 50 anni norme su norme, quindi c'era molta confusione. La fortuna, questa è una fortuna vera perché scrivere un codice è veramente un colpo di fortuna incredibile. La cosa bella è che nel primo articolo abbiamo azzerato tutte le normative in corso, quindi oltre 40 gruppo di norme che erano in vigore sono state abrogate. Quindi abbiamo, come si fa in qualunque codice, riorganizzato in maniera organica, strutturale, quindi in modo chiaro, in modo da poter dare uno strumento effettivamente efficace, efficace ed efficiente a tutto il mondo legale, ma anche al mondo giudiziario e poi a chiunque si può avvicinare a questa materia perché con il codice oggi è molto semplice. Uno, che cosa voglio sapere? Sul marchio c'è il capitolo del marchio dove ci sono tutte le norme sostanziali e poi processuali, nazionali e internazionali dove c'è, quelle comunitarie dove c'è una interconnessione comunitaria. Quindi uno strumento fondamentale, una riforma che è stata veramente unica. A questo, se posso, è stata aggiunta una seconda riforma che era la seconda gamba. Mentre il codice si rivolgeva all'aspetto sostanziale, quindi al corpus delle norme, poi abbiamo dovuto fare una riforma per creare le sezioni specializzate che ora si chiamano sezioni per l'impresa, cioè creare delle sezioni specializzate, quindi tribunali con la competenza esclusiva all'interno dei tribunali stessi e con un tribunale ogni capologo di regione affinché, visto l'importanza che ha in Italia la nostra materia, perché ovviamente il tempo nel dito industriale e nel dito autore è fondamentale, perché se c'è una violazione e non si interviene in tempo, alla fine può essere vitale per l'azienda che magari subisce una contraffazione o una violazione di concorrenza sleale. Quindi è necessario avere giudici competenti e è un sistema efficiente. E questo con la riforma delle sezioni dell'impresa siamo riusciti a raggiungere. Ora dopo dieci anni che è in vigore vediamo che è stata una scelta molto importante anche perché purtroppo l'ordinatorietà delle cause in tribunali in Italia sono molto lunghe e quindi non era possibile accettare quei tempi per questa materia. Ecco, avvocato, a questo punto le chiedo quali sono gli obiettivi e i progetti per il futuro. Questa è una materia che si rivolge, diciamo, io la chiamo anche, oltre che diritto autore, anche diritto dell'innovazione, perché si rivolge proprio alla ricerca, alla ricerca tecnologica. E ora le nuove frontiere quali sono? Abbiamo la robotica, l'intelligenza artificiale, le macchine automatiche, blockchain, tutte nuove innovazioni che sono ormai fondamentali per la nostra civiltà e lo sanno sempre di più. Però quello che noi dobbiamo fare è trovare una sintesi giuridica affinché siano governate, perché è necessario riuscire a governare questi nuovi fenomeni di innovazione, perché l'innovazione non si ferma, ma noi siamo felici che vada avanti, però è ugualmente necessario governarle con le norme. Noi quindi ci stiamo strutturando per poter seguire queste nuove innovazioni e fornire l'assistenza per quanto riguarda tutte le implicazioni giuridiche che sono necessarie affinché si possano utilizzare in maniera corretta e tutti possano essere soddisfatti e non ci siano soprusi di posizioni rispetto ai cittadini.